Il giorno e la storia. Oggi è il 28 dicembre. 1943. Reggio Emilia. I sette fratelli cervi fucilati nel poligono. 1964. Giuseppe Saragat eletto quinto presidente della Repubblica. 1979. L'Urs invade l'Afghanistan. Commenta il fatto del giorno Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi vi voglio parlare di un saggio narrativo molto importante, Arcipelago Gulag, di Alessandra Solgenizzi. Grazie a tutti.